Il DS del San Tommaso, Franco del Gaudio non dorme mai, riconfermati tre giocatori che lo scorso anno si sono comportati molto bene, Tucci, Tornatore e Saveriano. Sempre in eccellenza scatenatissimo il Cervinara con il presidente Ricci che continua a parlare di una salvezza tranquilla ma che intanto ingaggia pezzi da 90. Alla corte del tecnico Ceramella dopo Zerrillo e Befi arriva anche Yuri Marinelli, centrocampista di Pomigliano che quest'anno ha vestito proprio la maglia del club partenopeo. In precedenza il classe 94 ha giocato in piazze importanti come Viterbo e Grossieto con i toscani Marinelli esorditi in serie B. L'FC Avellino di Mister Spiga invece va a caccia di punte, Alfonso Peluso e Marco Ambrosino sono i nomi sul taccuino della dirigenza. Ma non sono gli unici giocatori a piacere al neonato club, un altro nome è quello di Mirko Bisogno, centrale difensivo ex Forino. Una trattativa questa però molto più difficile delle altre due. Il baiano di Mister Sgambati che vuole ricoprire un ruolo di protagonista nel prossimo torneo ha ufficializzato l'arrivo di Alfredo Mingione, esperto difensore centrale ex Casagiove. In passato il calciatore ha giocato tra le file di Ariane Ilpino e Gelbison in D. Ebolitana, Vissannicola, Montone e Cicciani in eccellenza, Savitaliano in promozione e Sporting Nola in prima categoria.